Maria è la madre della speranza, da lei nasce l'insegnamento a guardare al domani con speranza e non fermarsi all'oggi. È il messaggio che Papa Francesco ha consegnato ieri pomeriggio alle monache Benedettine Camaldolesi, all'Aventino, in occasione della sua visita al monastero di Sant'Antonio Abbate, nella giornata delle claustrali, dedicata a tutte le comunità di clausura. Maria, dunque, è la madre della speranza. Alle suori che lo hanno ascoltato e alla loro abbadessa, il Papa ha ricordato tutti i sì della vita della Vergine, a partire da quello dell'Annunciazione, e per questo, Maria, ha detto, diventa l'icona più espressiva della speranza cristiana. Dopo la celebrazione dei Vespri, il Papa ha avuto un colloquio privato con le monache.